Ben ritornati cari telespettatori al nostro consueto, ormai settimanale appuntamento con la sanità, in modo particolare con la salute, la salute di tutti quanti noi. Protagonista come sempre l'USL 15, Alta Padovana, ospedale di Campo San Piero e di Cittadella. In modo particolare, ospiti graditi con noi in studio, abbiamo Lucio Bacelle, direttore unità operativa del laboratorio di analisi, sempre dell'USL 15, ben arrivato. E grazie di essere qui con noi. Ben arrivato anche a Giuseppe Idotta, direttore unità operativa pneumologia ospedale di Cittadella, USL 15. Grazie anche a lei. Allora, parliamo di allergie e di intolleranze, non tanto perché è la stagione, quindi si manifestano con maggior evidenza, ma soprattutto perché è un problema sempre più frequente. Persone anche in età adulta, quindi non solo manifestazioni nell'età, così della giovanissima età, quindi nei bambini, ma anche successivamente accusano della sintomatologia ben identificabile e quindi riconducibile, molte volte, in moltissimi casi, a un'intolleranza oppure un'allergia. Cosa fare? Quali sono i sintomi però da riconoscere? Se è possibile poi prevenirla? Che tipo di cure ci possono essere? Il farmaco in modo esclusivo oppure c'è qualcos'altro? C'è una possibilità di ricondurre geneticamente una predisposizione ad essere allergici a qualche cosa? E poi in un contesto ambientale così poco sano, dove siamo costretti, gioco forza, a vivere, ad alimentarci, a respirare, saremo sempre più bombardati da queste fastidiosissime e a volte pericolose manifestazioni, a cercare di dare delle risposte nei limiti del possibile ai nostri ospiti. Allora, come sempre, vi ricordo, siamo in diretta, c'è il numero in sovrimpressione dell'URP per avere delle visite e mettersi a contatto direttamente negli orari che vedete con l'azienda ospedaliera. Altrimenti potete telefonare e porre le domande direttamente ai nostri interlocutori. Beh, io direi di partire da lei, dottore. A questo punto, quali sono, diciamo un po' la differenza, allergie e intolleranze? Perché molte volte si confondono e un po' capire, facciamo un po' di informazione. Sì, beh, innanzitutto quando parliamo di allergie e intolleranze andiamo nell'ambito alimentare piuttosto che respiratorio, perché il mondo delle allergie abbraccia varie parti del nostro corpo. Logicamente la differenza principale tra un'intolleranza e un'allergia è intanto la dose di dipendenza, cioè un'allergia si scatena anche con piccolissime dosi o con anche pulviscolo di una sostanza. e penso sia noto a tutti dei spiacevoli inconvenienti che sono successe a persone che sono allergiche al latte, che entrando in una stalla, quindi non bevendo il latte, ma respirando il pulviscolo generato dalla mungitura, sono andate in shock anafilattico. E quindi basta solo una minima dose di sostanza inalata o ingerita per poter scatenare anche fatti molto gravi e nel breve tempo, perché la differenza anche è questa, cioè il tempo di insorgenza tra l'allergia e l'intolleranza. L'intolleranza, diciamo, che invece è cateterizzata intanto da sintomi meno gravi, è sempre dose dipendente, quindi più mangio una cosa più sto male, ne mangio poca, i sintomi non compaiono e soprattutto il tempo di insorgenza, quindi mentre nell'allergia abbiamo due o tre ore al massimo di tempo dall'ingestione del cibo all'insorgenza della sintomatologia, che può essere sia di tipo gastroenterico, ma anche cutaneo e anche respiratorio, fino allo shock anafilattico, l'intolleranza di solito da una sintomatologia o prettamente cutanea, quindi rash cutaneo, orticaria, prurito, oppure di tipo gastroenterico, quindi il classico gonfiore, mangio niente e sono gonfia, episodi di diarrea, episodi di stipsi e quindi sono tutti sintomi correlati all'apparato gastroenterico. Ecco, questa è la fondamentale differenza tra le due cose. Tutti i cibi possono dare allergia, ma ce ne sono che ne danno più frequentemente, tipo il latte, tipo la farina, tipo l'uovo, tipo la fragola, mentre l'intolleranza uno può diventare intollerante a tutto. Una cosa molto importante nell'ambito delle allergie alimentari è quella di ricordare sempre che a oggi mangiamo sempre più spesso cibi preparati dall'industria conserviera. E quindi tante volte noi confondiamo un'allergia alimentare per qualcosa che non è un'allergia alimentare, ma magari è un'allergia al prodotto chimico additivo per mantenere, tra virgolette, sano quel cibo che non vada male, che non si formino delle flore batteriche pericolose per cui va in avalia subito. Quindi il problema molte volte è che una persona dice sono allergico a tutto, ormai il mio organismo non sopporta più niente, mangio solo il caso del riso lesso, non lo so, eccetera. In realtà è perché quella sostanza, quel conservante, quell'additivo è presente in più preparati purtroppo. Cioè purtroppo noi oggigiorno basta che andiamo al supermercato, è tutto confezionato, è raro che compriamo anche la frutta e la verdura, viene trattata perché rimanga bella, perché non vada male, l'insalata è già lavata e spruzzata con delle cose perché rimanga bella fresca e confezionata. siamo sempre più portati a usufruire e a mangiare delle cose preparate perché il tempo a disposizione che abbiamo è poco e quello che andiamo a mangiare nello snack bar o piuttosto che nel ristorante non abbiamo mai la sicurezza che sia un cibo genuino e appena raccolto. Quindi siamo sempre più soggetti a questa tipologia di intolleranza a sostanze che non sono l'alimento principale ma quello che gli viene associato. Ecco dottore, quanto nell'intolleranza, nella reazione dell'organismo e del fisico c'è anche di psicologico? Sicuramente una persona che mangia determinate cose, ogni volta che mangia, che per esempio uno yogurt o la pizza si gonfia, logicamente ne risente anche dal punto di vista psicologico ed è portata a non assumere più quel cibo di suo, fino a quando poi non arriva ai nostri ambulatori oppure, peggio ancora, non può arrivare al pronto soccorso con una reazione magari così anche un momentino accentuata da una parte psicologica del nostro essere. Benissimo, torniamo poi sull'argomento perché c'è ancora molto da dire. Invece per quel che riguarda le respiratorie, qui vedevamo anche prima delle immagini, i pollini la cosa più frequente però non solo, ce ne sono tante altre, spaventano perché si parla di asma in molti casi e di riniti allergiche, quindi sono estremamente non fastidiose, preoccupanti in certi casi, soprattutto nei bambini, ma poi ci sono persone che purtroppo sono anche morte per questo. Certo, c'è sicuramente una grosso importanza per quanto riguarda le regie nel determinare sia le regie allergiche che l'asma. E poi non bisogna pensare all'arinite come una forma staccata rispetto all'asma, ma spesso l'arinite precede di alcuni anni l'asma. Con l'arinite sarebbe? L'arinite è l'infiammazione delle prime vie, del naso in particolare, dovute a cause le più diverse, sono anche di tipo infettivo, nel caso specifico di cui sto parlando oggi è legato proprio a allergie, non so, a pollini, betulle, graminacee. Quindi sternutire come se si avesse raffreddore. Quindi sternutire sì, tipicamente, per soltanto sono soggetti giovani, bambini, le calcolo che fino a una persona su sei è affetta da rinite allergica e fino al 60% dei rinitici allergici diventa asmatico nel corso della propria vita. Non ci sono solo chiaramente allergie, perché viviamo, come diceva poco fa l'ottor Bacciaio, un ambiente che è altamente inquinato, gas di scarico, polveri, c'è poi sicuramente anche l'effetto della situazione dell'aspetto della genetica che conta parecchio perché chi ha già in famiglia casi analoghi di genitori con sanguini che sono affetti da rinite allergiche piuttosto che da asma, piuttosto che da intolleranze alimentari hanno maggior probabilità di diventare a loro volta rinitici allergici. C'è poi anche il ruolo fondamentale del fumo di sigaretta che è un determinante importante e forte. Diciamo che tutte queste condizioni identificano e comportano una situazione che si chiama iperreattività delle vie aeree in pratica, che non è di per una malattia, ma è un modo di essere, cioè è una esagerata risposta delle vie aeree, della parete delle vie aeree, siano esse il naso o i bronchi, per cui il paziente che viene esposto a sbalzi di temperatura, gas di scarico, odori forti, eccetera, arriva ad avere sintomi, naso che cola, per colamento nasale posteriore, la rinorrea, cioè quello scolo di materiale traslucido, trasparente praticamente, d'accordo? E questo poi per caduta va a interessare anche le vie aeree inferiori e spesso da qua nasce proprio il passaggio negli anni dalla rinite all'asma. Ah, quindi attenzione a non trascurare queste manifestazioni di rinite perché potrebbero degenerare successivamente. Chiaramente, tutti i pazienti che sono affetti da rinite su base allergica andrebbero studiati per capire se hanno già sottostante un'asma, in pratica. E come si fa a capire se c'è sottostante un'asma? In questo caso, allora, fondamentale, quando il paziente ha praticamente dei sintomi che sono compatibili o la diagnosi è già certa di rinite allergica, in pratica, quindi con naso che cola, il bambino per esempio che si strofina spesso e volentieri il naso, ha gli occhi arrossati, anche spesso la congiuntività è associata, ecco, associata eventualmente a precoventosare posteriore, a tossetta. Questi vanno sottoposti, oltre alle indagini di funzionalità, diciamo, allergologica, quindi poi ne parlerà, credo, il dottor Bacelle, anche a una prova di funzionalità polmonare, una spirometria. Se la spirometria è normale, si va nella direzione di cercare di indurre una chiusura delle vie aeree attraverso un test che si chiama test di broncoprovocazione, cioè con una sostanza, la metacolina, che consente di capire il livello di sensibilità di quei bronchi. Se invece la spirometria dice un quadro normale, un quadro, scusi, ostruito, quindi di chiusura delle vie aeree, a quel punto si fa il test rovescio, cioè si dilata il paziente e in base all'entità del miglioramento rispetto alla base si dice elevata probabilità, oppure no, di avere un deficit di tipo ostruttivo legato tipico, in questi casi, di asma, insomma. Ho capito. Test di broncoprovocazione, che è fondamentale per fare diagnosi di asma. Perfetto. E poi per dare anche eventualmente, qua credo che possa essere utile, anche quel famigerato codice di esenzione, richiesto a gran voce e che praticamente serve per avere gratuitamente poi visite, farmaci, esami, indagini. Altra cosa importante che dovrebbe dare per scrivere il medico generico, quindi io lo dico sottolineare. Quindi la diagnosi va fatta in ambiente specialistico, d'accordo? Però una volta che si diagnostica questo, l'esenzione lo deve. Appunto assegna il codice di solito 007493 per l'asma e questo dà diritto poi ad avere una serie di facilitazioni di recupero di soldi, perché di fatto non si pagano farmaci, visiti, prestazioni, insomma. Questo è importantissimo. Certo. Andiamo in pubblicità, prima volevo chiedere un'ultima cosa. Manifestazioni asmatiche, quindi anche in età successiva? Certo. E si può guarire? Diciamo che da asma non si guarisce. Diciamo che ci sono tanti tipi di asma e per lo stesso tipo di asma diversi livelli di gravità, per cui diciamo la terapia dell'asma è una terapia che va confezionata per quel paziente specifico in base alla sua tipologia, al suo tipo di asma, perché ci sono asme su base allergica ma anche in un'allergica intrinseca, asme da sforzo, asme da aspirina, d'accordo, asme sottostimate perché spesso e volentieri, nei casi più frequenti per fortuna, perché non tutte sono casi rarissimi quelli che portano a morte il paziente, ma spesso e volentieri l'unico segno sintomo di asma è una tossetta insistente, fastidiosa che è data da tempo e a cui il paziente si abitua senza rendersi conto. Quindi una tossetta stizzosa così saltuare. Potrebbe essere un equivalente minore di asma. Andare dal medico curante, chiaramente, che potrà poi di conseguenza fare le sue valutazioni e quindi eventualmente inviare lo specialista di conseguenza. Perfetto, chiarito questo, poi torniamo anche con le altre tipologie di allergie, ma ritorneremo anche su quelle respiratorie perché c'è tanto da dire. Pubblicità, se dovete chiamare o mandare messaggi, approfittatene. Allora, torniamo qui a noi. C'è un messaggio, adesso li vediamo anche in onda, parlava di patch test. Andato dal medico generico, gli ha prescritto questo. Cosa sono questi patch test? Allora, i patch test sono una delle metodiche che noi abbiamo a disposizione per poter fare diagnosi di allergia. Sicuramente il patch test non va bene per tutte le forme di allergia. Viene utilizzato principalmente per le allergie da contatto, quindi ai metalli, alle sostanze chimiche, malattie professionali, ci sono i patch test per le sostanze usate in odontoiatria, per le parrucchiere. Ecco, tutte queste cose chimiche che possono venire a contatto con il nostro corpo e che di solito danno una manifestazione cutanea, quindi l'ezema da contatto. Viene utilizzato anche in età pediatrica per diagnosticare delle allergie alimentari oppure delle allergie da acri. viene utilizzato ancora con scarso successo, bisogna dirlo, per quanto riguarda le diagnosi per le allergie a farmaci, sia antibiotici che non antibiotici. Ecco, è molto, secondo me, ben utilizzato invece per la medicina del lavoro. Questo è il patch test. Consiste in dei cerottini che devono restare indebuti, diciamo, della sostanza chimica di cui vogliamo essere sicuri se uno è allergico o meno, vengono applicati di solito su una parte della schiena dove non dà fastidio al paziente, devono rimanere lì da 48 a 96 ore, vengono visualizzati i risultati a 48, 72, 96 ore a seconda che se vengono tutti positivi già a 48 finisce il test, se invece sono negativi si continuano a rileggere fino a 96 ore e lì si pone diagnosi per una sostanza chimica, prettamente per la sostanza chimica. A differenza del Prick, invece, che è più orientato per quanto riguarda le allergie respiratorie o per le allergie alimentari. Poi, sempre nell'ambito della diagnostica, abbiamo gli esami del sangue con il Prist o i Gie totali, il Rast o i Gie specifiche, i test con gli allergeni ricombinanti, le CP e via dicendo. Comunque, c'è una scaletta da seguire secondo le nostre linee guida in cui il paziente non è che va direttamente a fare un esame del sangue, spassa prima attraverso l'indagine allergologica cutanea e poi, piano piano, l'allergologo consiglierà di proseguire. Ecco, dottore, si diceva leggendo anche poi nelle immagini che comparivano, ma poi è andato di fatto, le persone allergiche aumentano sempre più, anche persone che non avrebbero mai immaginato di esserlo, addirittura si diceva a 70 anni. A 70 anni uno accusa magari una tosse insistente o manifestazione asmatica non riconducibile a nessun tipo di malattia da raffreddamento o quant'altro, o malattia oncologica perché dopo, per carità, va a pensare di tutto, e invece è una manifestazione allergica. È mai possibile questo? Oppure l'allergia da contatto, il classico nickel, che ormai sta diventando diffuso, come mai questo? Allora, beh, innanzitutto dobbiamo chiarire una cosa, che potenzialmente l'allergia è determinata da una predisposizione genetica a diventare allergici, ecco perché ci sono delle persone che pur toccando continuamente a determinate sostanze non diventano allergiche al nickel. Assolutamente. Quindi c'è una base di predisposizione genetica. Poi dipende dall'esposizione di queste persone predisposte a diventare allergiche e quindi a questa predisposizione logicamente si sviluppa l'allergia. Il fatto che vengano fuori sintomi o non vengano fuori sintomi può essere anche determinato dal sistema immunitario della persona che in un momento di defiance del suo sistema immunitario emerge sicuramente il problema. Per quanto riguarda il nickel, poi, c'è da sottolineare un'altra cosa che è sempre più, è sempre stato negli anni scorsi, sempre più utilizzato in tantissimi prodotti, dalla tintura dei capelli alla conservazione dei cibi all'utilizzo anche delle monetine, i nostri centesimi del nostro euro sono in nickel e quindi abbiamo aumentato in maniera esponenziale il contatto con queste sostanze. Per cui sicuramente una persona predisposta a diventare allergica che si espone continuamente a questo insulto prima o dopo diventa allergica. Soprattutto nelle persone che magari hanno l'abitudine di lavarsi le mani troppo spesso, lavarsi come sostanze drastiche che tolgono quel film protettivo che noi di natura abbiamo che è dato dal sudore, dal grasso del nostro corpo togliendo questo sicuramente l'allergene penetra più facilmente nel nostro organismo, si creano gli anticorpi per quell'allergene e ogni volta che noi andiamo a contatto con questa sostanza, il nickel si forma una reazione antigene-anticorpo ecco la vescichetta che compare sulla mano oppure sul lobo dell'orecchio se abbiamo messo un orecchino in metallo, ecco di solito anche l'oro è una lega e tutti i metalli per diventare una lega hanno bisogno di un processo che si chiama nichelatura e quindi il nickel c'è sempre anche nell'oro bianco poi soprattutto ce n'è molto di più che nell'oro giallo e quindi tante volte si dice ma io porto solo le cose d'oro non è detto perché dipende dalla quantità di nickel che è stata impiegata per stare attaccato il rame che notoriamente compone l'oro cioè la lega con l'oro c'è anche del rame e quindi quanto nickel è stato adoperato per cui fa scatenare la reazione è vero che certi cibi possono rendere maggiormente sensibili a certe sostanze quindi diciamo il pomodoro ad esempio certo, ci sono dei cibi che contengono moltissimo nickel soprattutto per esempio il cioccolato, la liquirizia, il pomodoro, i cereali, le arringhe e i cibi che vengono cotti nelle pentole che rilasciano il nickel perché una pentola ideale sarebbe la vecchia pentola di alluminio o una di acciaio però puro acciaio perché altrimenti nella cottura vengono rilasciati continuamente delle microparticelle di nickel quindi ci intossichiamo ecco esattamente per fortuna ci sono dei validi vaccini contro il nickel e il nickel che oltre a determinare problematiche di tipo dermatologico determina molti disturbi di tipo gastroenterico cioè? gonfiore, irritazione gastroenterica sintomatologia dolorosa a livello dell'intestino, diarrea ecco, oltre alle manifestazioni da contatto quindi la lesione viene fuori dove io metto il gioiello dove metto la cinghietta del sandalo quindi attenzione a tutti coloro che ci ascoltano che sono tantissimi con le persone che sono allergiche al nickel e prima di tutto si chiede al nickel free e prurito perché può essere il prurito e esatta la sintomatologia esterna però attenzione potrebbe esserci una manifestazione anche a livello gastrico che uno non riesce a capire magari va a risalire chissà quale causa dottore, tornando anche al discorso respiratorio abbiamo visto i pollini e quant'altro e le polveri, le polveri sottili questo è un altro problema molto grosso queste manifestazioni asmatiche possono essere sollevate in qualche modo cambiando ambiente quindi ambiente di lavoro insano ambiente dove uno vive magari ci può essere una soluzione? sicuramente dipende dal tipo di asma sottostante chiaramente è chiaro che il soggetto che ha un'asma allergica è un soggetto che ha una spiccata iperreattività delle vie aeree e su questa iperreattività cioè ripeto come dicevo poco fa questa esagerata risposta in senso di chiusura delle vie aeree al contatto con certi stimoli che possono essere sbalzi di temperatura gastri di scarico ecco in queste persone il contatto con polveri sottile specie se associate a variazioni a sbalzi termici ambienti umidi piuttosto che ambienti secchi comportano sicuramente un'accentuazione un aggravamento delle condizioni di fondo la differenza sostanziale del soggetto asmatico rispetto al soggetto non asmatico è che pur senza esserci nel soggetto asmatico in fase di stabilità senza esserci una contrazione della parete del bronco però il bronco internamente ha una quantità di muco maggiore rispetto alla quota di muco presente nei bronchi di un soggetto non asmatico in coincidenza con l'esposizione acuta alla sostanza a cui è allergico piuttosto che uno stress termico piuttosto che una sostanza tossica eccetera fra questo anche le polveri sottili si innesca un meccanismo che porta a una contrazione della parete bronchiale a un aumento della quota di muco dentro il bronco e quindi a una chiusura proprio a un'ostruzione meccanica fisica di quel bronco per cui compaiono o si accentuano fischi, sibili e chiaramente difficoltà di respiro ecco qui stiamo vedendo appunto quali sono i meccanismi di reazione ecco sicuramente l'infiammazione è il quadro di fondo è la caratteristica fondamentale del soggetto asmatico indipendentemente dalla causa dell'asma questa induce una iperattività bronchiale che porta a ostruzione e questo è quanto appunto dicevo poco fa in basso a destra appunto voi vedete la condizione del soggetto asmatico in fase di crisi rispetto al passaggio intermedio in alto invece a destra è il bronco di un soggetto sano ecco la paura di non riuscire a respirare questa sensazione di soffocamento oppure a volte al contrario il trascurare di vabbè un'allergia soprattutto in persone magari che hanno anche una certa età può essere invece grave cioè quindi non va trascurata la sintomatologia perché può danneggiare altri organi oppure la paura può essere eccessiva per fortuna ecco per fortuna i casi di asma realmente grave quelli che portano a morte sono pochi sono rari purtroppo il paziente affetto da asma ha il vizio di dimenticarsi di essere asmatico passata la fase critica fa fatica a continuare a pensare di dover fare una terapia sistematica e continuativa normalmente nel soggetto che ha un asma di livello medio come gravità la terapia dovrebbe essere continuativa a base di farmaci contenenti del cortisone per via inalatoria non può prendere mai la cura no questo chiaramente è chiaro che abbiamo noi pazienti che possono essere da sintomatici a pazienti molto gravi e quindi bisogna gestire in maniera molto precisa singolo caso caso per caso su 100 asmatici abbiamo 100 diversi modi per trattare il paziente ma questa modalità di trattamento dipende dal tipo di asma dal livello di gravità dai livelli di infiammazione dai livelli per esempio dell'ossido nitrico esalato è un parametro molto importante che va misurato e serve per capire il livello dell'infiammazione di osinofila cioè di quel tipo di infiammazione che si verifica solo nel soggetto con asma allergico per esempio e allora una volta che hai fatto diagnosi con il test del metacolina dici questo è un asmatico posso monitorarlo nel tempo facendo un dosaggio dell'ossido nitrico esalato è molto semplice per riuscire a portarlo per andare poi in discesa o in salita con i farmaci con una terapia che comunque teoricamente sarà per sempre perché l'asma non guarisce ecco l'asma non guarisce c'è una telefonata pronto? pronto? pronto buongiorno buongiorno da dove chiama? chiedo della regina il volume più alto perché se no non sentiamo il nostro testo prego dica ecco volevo chiedere al medico dottore se può chiarirmi un po' la faccenda mia personale in questo senso io avevo assoluto fare le cure termali qualche anno fa e venendo poi le cure termali forse ho preso del freddo non lo so insomma mi si è mosso tutto quanto un cataro un movimento allora assoluto dal medico dopo una settimana dal medico mi dice devi antibiotico e mi dà l'antibiotico non fa niente dopo ci va un'altra settimana un altro antibiotico e non fa niente insomma tre antibiotici hanno bloccato un po' la situazione adesso cosa succede? io quando al giorno non sento niente non ho nessun problema quando mi corico alla sera mi si tappa tutto il naso e respiro con la bocca aperta fischia un po' sento un fischito ogni tanto sento queste cose io non riesco a capire io ho un problema di peso comunque perché sono 120 kg insomma voglio dire a uno 70 120 kg è come che siano un po' troppi insomma da quanto tempo ti accusa questi problemi? da quanto tempo accusa questi problemi? sì c'è un po' di tempo mi ha dato insieme al stick quello per fare per dilettare un po' i brochi perché dice che è una bronchite però non so se c'è una bronchite non ho capito niente volevo solo chiedere un po' di informazione al dottore se mi può dare un po' di conguaglio poi vado a sentire di nuovo dal medico perché dovevo fare delle cure ho fatto quella respiratoria sono andato a fare quella ho detto che sono nella normalità poi dovevo andare a ricercore ma ci sono più andato perché dovevo fare quella perché si doveva formare il cataro non lo so non ho perduto bene la faccia chiarissimo che età? scusi? ho 62 anni grazie grazie molto adesso sentiamo il dottore grazie grazie arrivederci buongiorno io credo qui ci siano a tre livelli di gestione della situazione il primo quindi eventualmente il ruolo delle cure termali in pazienti di questo tipo teniamo presente che diciamo è raro avere un paziente che sia solo asmatico di solito noi abbiamo pazienti che hanno diciamo delle forme miste a prevalenza asma per esempio ma con una piccola quota anche di bronchite cronica spesso sono pazienti che continuano a fumare nonostante una diagnosi di asma e quindi sono pazienti che comunque diventeranno bronchitici cronici col passare degli anni allora in questi casi diciamo i cure termali possono andare bene per una situazione meno bene per quell'altra se poi si associa anche una forma di ipersecrezione è chiaro che l'esposizione a cure termali induce una iproproduzione di muco e quindi qua bisogna favorire l'emissione del muco è chiaro che lo stress termico conseguente all'uscita dalla seduta di cura termale se il signore è raccaldato può avere in qualche modo accentuato questa situazione uno due qui credo sia importante fare diagnosi quindi fare una spirometria di base quanto meno e se è normale eventualmente procedere con un test della metacolina se invece è ostruito il paziente procedere con un test di broncodilatazione chiaramente all'altra tutti gli esami di cui parlava poco fa il dottor Bacelle e anche un dosaggio dell'ossio nitrico per vedere eventualmente il livello di infiammazione osinofila delle vie aeree il terzo passaggio è quello durante la notte praticamente si si sveglia a dei problemi e ha già posto probabilmente in parte il sospetto diagnostico perché è possibile che questo paziente abbia delle apnei notturne sappiamo che le apnei notturne sono una condizione molto frequente nel soggetto in sovrappeso d'accordo e spesso nel soggetto con cui si associano bronchite cronica e o asma il sovrappeso qui chiaramente rappresenta l'elemento scatenante dominante perché quando un paziente con queste caratteristiche fisiche si mette disteso la sera e si rilassa per dormire si rilassano anche i muscoli del faringe quindi tendono a chiudersi le vie aere e quindi può essere pericoloso perché questo però è un paziente che va trattato con un esame particolare che si chiama monitoraggio cardiorespiratorio o eventualmente anche polisonografia normalmente è buona cosa fare un'indagine premologica preliminare a questo esame d'accordo che prevede l'assunzione di alcuni test per esempio capire la facilità con cui prende sonno il test S-Score e capire per esempio le dimensioni del collo normalmente una persona che ha una camicia con un collo sopra i 42 cm è un soggetto più a rischio rispetto a un soggetto magro perché l'obesità comporta un maggior fattore di rischio e è un fattore di rischio importante quindi sono tutti elementi da valutare quindi se devo dare un consiglio a questo signore io credo sia importante che attraverso il suo medico curante faccia riferimento a uno specialista allergologo e pneumologo d'accordo per fare sicuramente una valutazione funzionale polmonare fare un esame di base si chiama monitoraggio notturno della situazione ossiaemoglobinica per vedere se durante la notte in occasione di questi eventi apnoici c'è un crollo dei livelli di situazione dell'ossidio nel sangue e se questo è positivo ci saranno anche i motivi per andare avanti con esami di livello superiore perfetto grazie mille poi arriviamo anche a lei andiamo subito in pubblicità poi torniamo insieme grazie dottore allora sono stati diversi messaggi uno in particolare chiedeva il discorso del riconoscimento in Italia delle allergie da sostanze chimiche quindi credo che sia legato anche a ambienti di lavoro medicina di lavoro e validanti il modo di agire più corretto è una volta che una persona nell'ambiente di lavoro tocca manipola sostanze che possono determinargli un'allergia cutanea naturalmente perché ha il contatto oppure di tipo respiratorio e quindi riguarda il pneumologo piuttosto che l'allergologo una volta fatta la diagnosi con i test che noi abbiamo a disposizione bisogna rivolgersi all'istituto di medicina del lavoro dell'università della propria città lì viene fatta una certificazione vengono fatte vengono fatti sicuramente dei test di approfondimento viene fatta quindi una certificazione che l'individuo non può toccare non può lavorare in un ambiente che ha delle emissioni di polveri o piuttosto di metalli e quindi non li può toccare e in base a questa certificazione il datore di lavoro in base alla sicurezza sull'ambiente di lavoro è obbligato a spostare l'individuo da un reparto all'altro questo sicuramente e poi parliamo invece del discorso di interazione quindi tra pollini e è sempre più frequente il concetto della crociatura tra il polline e un'allergia da pollini e una intolleranza tra virgolette una male assorbimento di alcuni alimenti si tratta soprattutto di alimenti vegetali quindi la frutta e la verdura di solito all'inizio non si è mai arrivati ad avere un'allergia pura anche all'alimento ma si tratta appunto di una crociatura perché l'allergene vegetale del polline al quale una persona è allergico è molto somigliante e crocia a livello molecolare naturalmente io cerco di parlare anche in termini un pochettino semplici quindi assomiglia diciamo al polline al quale una persona è allergica come si manifesta la persona per esempio che è allergica alle graminace può avere disturbi nella mucosa orale quindi si chiama sindrome della mucosa orale quando mangia il melone quando mangia l'anguria quando mangia la ciliegia quando mangia gli agrumi il kiwi e cosa si manifesta allora si manifesta come una sensazione di fastidio sulla mucosa della lingua del palato delle labbra una sensazione di aver mangiato qualcosa che gratta in gola può aumentare la sintomatologia respiratoria quindi tosse rinite e quindi da fastidio quindi si rivolge al medico dice io ero allergico solo alle graminace adesso non riesco più a mangiare questo ecco all'inizio non si tratta di una vera propria allergia ma di una crociatura col tempo può diventare anche allergico agli stessi alimenti per esempio chi è allergico alle betulle e al nocciolo e allontano al carpino può avere questa sindrome quando mangia la mela quando mangia la pera il kiwi oppure il finocchio crudo la carota cruda ecco tutta questa frutta quella che si può cucinare una volta cotta non dà più fastidio quindi la persona e anche la verdura la può assumere tranquillamente però cotta logico il melone non si può cucinare l'ambulia neanche e quindi ecco questo fenomeno noto come crociatura tra polline e alimento è sempre più emergente ecco mia figlia di 6 anni all'asma mi hanno detto di fare un esame sul genoma per vedere se difende da un fattore ereditario scusi se dottore se la interrompo però così scontriamo al volo visto che mancano anche pochi minuti ma credo sia diciamo abbastanza inutile nel senso che non è che se arrivo a scoprire che c'è il problema del genoma ho trovato la terapia d'accordo è importante capire se c'è l'asma primo misurare la sua gravità e gestire di conseguenza ripeto il problema più grosso è quello di educare la persona la famiglia a gestire una situazione che può diventare una malattia molto seria ripeto per fortuna questo spesso non succede però che chiede coerenza costanza nel tempo e anche una serie per esempio di abitudini che vanno assunte per esempio cercare di idratarsi molto bene perché i soggetti allergici i soggetti con iperattività delle vie aeree hanno una iperproduzione di muco a livello della parete bronchiale e quindi idratarsi correttamente significa avere del muco più fluido che facilita i meccanismi di pulizia di clearance muco ciliare automatici per le persone abituarsi a respirare dal naso non dalla bocca in questo modo noi utilizziamo i nostri filtri naturali e evitiamo quindi un impatto diretto che può essere dato sia dallo sbalzo dello strasterbico ma anche dai gas di scarico dalle polveri sottili soprattutto con le sostanze che praticamente abituiamoci a utilizzare i filtri naturali di cui noi disponiamo perfetto questo è molto importante comunque quindi a tenere anche il naso pulito il naso perdio ovvio quindi respirare per il naso rispondiamo un po' al messaggio che diceva di un rigassificatore che viene costruito a Cassola e che riguarda una zona comunque abbastanza prospicente l'area dell'Use 15 cosa ne dice? ecco io per carità forse più tema che riguarda il collega dottor Ridotta per quanto riguarda le polveri sottili che possono derivare da questo tipo di impianto sicuramente andiamo ad aumentare sempre di più quello che è l'inquinamento atmosferico che è una delle cause principali dell'aumento delle nostre allergie quindi io vengo a conoscenza in questo momento non essendo nella nostra Urs Cassola logicamente però limitrofa cercheremo di informare anche i nostri tecnici dell'Use che vadano a indagare su questa cosa perché sicuramente comunque va a danneggiare certamente va a aumentare il pericolo di aumento di concentrazioni di sostanze inquinanti soprattutto a livello respiratorio assolutamente ecco appunto abbiamo visto l'esame sul genoma che non serve perché a questo punto è diagnosticato può essere che una persona che ha sofferto in giovanissima età di asma di asma di allergie varie poi col passare del tempo riesca a superarle quindi entri in una fase di coescenza diciamo che di solito c'è un miglioramento anche autonomo di un'allergia di un bambino soprattutto quando raggiungi i 18-19 anni c'è un netto miglioramento soprattutto se era iniziata come allergia alimentare già all'età scolare un bambino riesce a prendere qualche alimento in più rispetto a quando era piccolino è questione anche lì secondo me di educare non tanto i bambini quanto i genitori perché tante volte mi capita di vedere delle mamme che nei ristoranti fanno assaggiare il crostaceo a un bambino piccolissimo non dobbiamo dare queste cose ai bambini perché sicuramente sono sostanze molto allergizzanti dare degli alimenti potenzialmente allergizzanti a un bambino piccolo che non ha ancora ben formato tutto l'apparato può essere pericoloso sicuramente verso i 19 anni anche le allergie respiratorie possono parliamo di rinite non di asma naturalmente le lascio il campo al collega possono anche migliorare perfetto rapidissimo dottor di asma si può convivere diciamo che sono più sfortunate quelle persone quei bambini che nascono pretermine quindi sappiamo che il polmone matura entro il primo anno di vita d'accordo per cui chi nasce pretermine e specie se nel primo anno di vita ha episodi bronchite o bronchiolite svilupperà quasi sicuramente asma forme allergiche asma e bronchite croniche associate quindi in questi casi il problema non è tanto l'asma ma la bronchite cronica che negli anni si associerà all'asma e che renderà quel quadro di asma intricata perfetto allora ci sarebbe ancora tantissimo da dire il tempo purtroppo non c'è più a disposizione grazie ai nostri ospiti di essere stati qui con noi grazie a voi di aver partecipato le puntate in replica sono comunque sugli altri canali del gruppo tv7 e naturalmente www.gruppotv7.com troviamo proprio il link dell'US15 con tutte le trasmissioni dedicate alla sanità compresa questa che verrà scaricata tra domani e dopo domani invece ricordatevi questa sera alle ore 21 vi aspetto per parlare di politica insieme ai nostri ospiti in studio il titolo sarà stato rapace punto di domanda a voi anche la risposta quindi partecipate questa sera naturalmente anche i prossimi giorni USL 15 informa con le ultime notizie le ultime novità che vengono dalla sanità dell'alta padovana grazie ancora appuntamento come sempre a domani con la nostra diretta parliamo di tasse e contributi del mondo degli anziani e quindi delle dichiarazioni dei redditi e di tanto altro ancora domani in